Oggi ragazzi i miei amici mi comanderete Ehi Eh ma non vedo niente Facciamo una cosa me la levo solo per l'inizio del video In questo video signori mi comanderete per 24 ore da bendato La cosa sarà stra difficile Sì allora ti dico una cosa Inizio già su Beh ragazzi ma voi siete mati già subito così E ovviamente giù la benda Ah ok Ma come pensate che io possa andare avanti così con una benda Non guardo mai Esatto no no Bella domanda beh Allora ragazzi questo lo so che è un video che vi divertirete molto Io non mi divertirò Allora facciamo così una minima cosa Dammi a me il mouse che tira una piccola mano Ma posso sbirciare un pochino almeno Non credo proprio Perché ti chiami ferro un hub Perché l'ho usato per un video che poi vedrai sul canale Che non ti ho detto niente Guarda te ne sono accorto di quel video me lo ricordo Ma sai che stiamo andando da dio mi sa Sì no guarda che stiamo andando bene siamo ultimi Siamo appena caduti Come ultimi porca di guerra Ragazzi non vedo nulla però Ma cosa succede No state fermi porca di quello ragazzi non vedo nulla Però se siamo primi zio Sì però se continuo a prendere le palle di neve Diciamo che non è una cosa molto Hai vinto hai vinto hai vinto Ma no no ho vinto non vedo niente Sbircia pure Sbircio Ma non mi sono qualificato neanche ragazzi Cosa pensavi andavi pure tu storto anche se ti guidavo io col mouse Adesso ve lo dico io ragazzi mi vendicarò e vabbè già che adesso non mi sono qualificato Direi che mi dovrò vendicare di voi Signori facciamo una cosa dato che il mio compito in questo momento è vincere la partita Facciamo che solo da un occhio non vedo Beh diciamo c'è un filtro giallo davanti a un occhio Dall'altro c'è una bella nera Ma non è un filtro giallo è un super potere di Powa Capitano Uncino lo chiamava È vero esatto Più o meno oggi sono diventato Capitano Uncino Perché non perdere anche questa per favore che sei un Nabbo galattico Ragazzi ma cacchio nero non vedo nulla non vedo Ma non vedo niente anche con un occhio Non giuro vorrei giocare io il tuo po' Stai facendo schifo Powa stai facendo schifo Allora mi impegnerò solo per diventare più forte Tanto ho tutto il tempo per qualificarmi ragazzi Muoviti zio non hai tutto il tempo ci stanno Sono già quasi qualificati tutti Ragazzi ma è normale porca di quello Ho una cacchio di benda davanti agli occhi E poi ci saranno sfide molto più difficili Che mi farei tanti spero di no Sei un Nabbo incredibile te lo dico Signori secondo me mi sono riuscito a qualificare Non so perché porca di quella No cos'era Perché è arrivato Refe con dell'acqua Ho sentito che dobbiamo comandarlo per 24 ore Sì ma ragazzi ma porca Non è comandarlo questa è una penitenza Mi lasciate fuori da questo gioco per sempre Ma perché puzza tantissimo quest'acqua poi Perché siete sicuri che acqua No 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 E adesso ti mangio anche questo fino alla fine del round Non vengo niente Comunque io voglio sottolineare una cosa Questo che hai tanto tanto caldo Tieni in mano anche questo Sì ma ragazzi lo state demolendo poverino Deve comunque vincere le partite Anche se con me ho ben... Oh due occhi No 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 va bene eh Demolendo no devi rimanere con una solo Occhio vendato Ragazzi mi sono calificato Sì c'è anche con il peperoncino in bocca Sì abbiamo capito proprio tutto quello che hai detto Sì esatto proprio proprio tutto Signore ragazzi Ah bah che schifo sto peperoncino Posso levarmelo vabbè Certo lo può levare Zio se riesci a vincere con un occhio Tanta roba Tanta roba roba che per la fine di questa mappa dovrei usare tutti e due gli occhi vendati tutte e due se vabbè ragazzi solo per la fine dove devi andare solo davanti va bene va benissimo tanto ve lo dico non mi qualifico già perché guardate qua quanto sono forti fermo purtroppo sei te che sei nab sto scherzando guardate quanto già sono avanti signori sono troppo forte bello quel trick comunque spero vi sia piaciuto l'unica cosa che adesso devo mettere entrambi gli occhi vendati vero il problema è che purtroppo t'hanno già si si occhi vendati ma è tutto bendato ragazzi non vedo nulla sinistra sinistra ho vinto no 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 non capisco ragazzi non sto capendo ragazzi sono quale io no 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 ragazzi non sto vedendo giuro non vedo un cacchio ma hai perso ma sta andando benissimo veramente l'importante è vincere a nostro modo o sbaglio sicuramente diciamo così se non riesci a trovare una speciale entro tre giri di ruota etica a partire ok prenderla a trovarla all'interno della piscina come all'interno della piscina questa mi piace ma fa freddissimo è tipo sera e sto congelando comunque ce l'ho a me conferta da 50 euro signori ma a noi non interessa adesso devo sciopare quella allora esatto sono tre giri vai tre giri vai io non vedo ragazzi si 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 vedi ancora un attimo io vedo vai va bene tutto giù porca il mouse no ok l'ho fatto io non capisco la fortuna che abbia sono troppo forte ma c'è ragazzi la piccola problema aspetta 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 oh bomba zio tira giuro venda non ci credo come credo trova errore che caccia è dai aria muoviti let's go signori sto sentendo la ruota lo trovate oh 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 è epica stavo scherzando porca di quella ragazzi ho solo tre giri per favore non illudetemi non vedo nulla è epica sono solamente contento perché così può va a gelarsi le chiappe eh esatto guarda che io spero solo nel oh l'ho trovata dai dai dimmi che l'ho trovata come di una noi te ne concediamo altri due altri due oh come siete gentili oggi esatti pure da metterli schiaccio io tu rimani con la benda però non barare ok basta che non mi shoppi 50 euro non c'è di lui gli altri due non io è stato troppo buono secondo me vabbè comunque tanto non la torrova ok il dai ragazzi io sto aspettando solo voi tanto non è che vedo qualcosa ecco c'è troppo la speciale strozzo ferro oh 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 il pingli porca di quella ma basta ragazzi io togli ti la benda e vola in piscina andiamo in piscina pova seguimi e non perderti eh si aiuto 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 ragazzi porca di quella fermo davanti a te sulla piscina fai un passo ok la senti io no ho più che se zucati eh ho un po' paura mi devi guidare basta un piede ok ah parca di quella che è schifo io sei impazzito nana fa veramente schifo ci sono le alghe in questa piscina ragazzi non è che ci sono le alghe ci sono le bombi ci sono le calabroni qui dentro e io adesso dovrò trovare una speciale si ma me la fate alzare questa diamine di parte mi togli il teo va bene adesso trovi una speciale si la troverò subito signori e soprattutto iniziamo a scioppare mannaggiavo che mi avete obbligato ragazzi io direi di iniziare subito con dei bellissimi genepi ci facciamo addirittura 10 vai io spero di trovare questa speciale se non lo metti a trovare ti distruggo ma mi distruggo noi ti lasciamo qua e ce ne andiamo e ti lasciamo in una piscina che sembra più una fogna ma che schifo ragazzi guardate cosa c'è qui dentro comunque ho trovato già due epiche e questa cosa non va per niente bene c'è della melma in questa villa c'è in questa villa in questa piscina la melma c'è anche nella villa che è effettivamente pova esatto grazie tu mi puoi dare qui che cazzo c'è guardate che schifo che c'è la melma sottolineiamo questa piscina dovrebbe essere normale il fatto che qualcuno c'è il trappiedi nudi dopo che passa tutto il prato sporco e schifo vabbè diciamo che mi devo pulire in qualche modo comunque ancora nessuna ragazzi anzi una sola leggendaria in questo momento eccola quella che abbiamo trovata proseguiamo signori anzi sapete cosa facciamo ragazzi vi faccio un bel tuffo nello schifo solo questo per voi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale è gratis e mi raccomando gratis ho dato qua altre epiche si ma lo sto gelando sono tipo che ore sono ferro? sono le 6 e 20 sono le 6 e 20 e si fa un freddo che mi vedete anche perchè siamo ad agosto è diversa la cosa comunque zio io te lo dico si mi fai schifo come ti faccio schifo? perchè? comunque aspetta che mi faccio altri giri ci siamo? perchè ti faccio schifo? vabbè di io te non devo neanche dirtelo io perchè sei in una piscina che sa di cacca? perchè mi sto lavando nella merda la cosa divertente è che merda in tutti i sensi perchè c'è davvero la merda è veramente bomba è vero mica mica mi metto le cose leggendarie mannaggia ho questo gioco ragazzi io sono sicuro che la troverò dovresti essere godendo leggendarie non epiche hai capito? ma già ce l'ho io devo trovare le speciali non devo trovarle leggendarie ragazzi lui le schifa le leggendarie lui vuole solo speciali beh ragazzi sono così forti sono così fortunato che ormai trovo solo epiche leggendarie oh ma una cosa il vero più forte del team se posso esser sincero il riff poi ci sono io ma come ne è? bene trovare le speciali ho un culo assurdo vabbè per quanto riguarda la fortuna magari si ragazzi però per i trick quasi comunque facciamone altri altri 10 giri ok questo spero sia l'ultimo giro ultimi 10 giri perché sto sciopando tantissimo sto diventando povero per questa giammine di sfida signori oh dai dai let's go let's go provata provata ragazzi non trovate mi vince più mi vince più oh mio dio che culo ragazzi me lo voglio subito equipaggiare ragazzi questo che è culo eh l'unica che mi mancava insieme a quello infuocato però sono comunque molto fortunato i signori l'ho trovata quindi sì levati dalle pro prima ferro faccio io il film io divertiti mi metto la mascherina ok perché cos'è che volete organizzare adesso zio c'è una mega sorpresa una festa una festa una festa una festa una festa perché hai trovato la speciale conta fino a tre po' qua uno due tre cosa si c'è oh 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 non te l'ho chiesto di me non me l'ho tolto era di questa acqua qua no era del cesso ma io ho dei picchi come ultima cosa voglio ringraziare per i 100.000 iscritti ragazzi ci siamo finalmente arrivati detto questo mi raccomando se non siete ancora iscritti al canale iscriviti anche a tutti quelli della gang signori ci vediamo bella ciao